E' bastato riaprire per un attimo la porta di San Pietro in Valle per radunare un piccolo gruppo di persone curiose che sbirciano all'interno. In effetti la chiesa di San Pietro in Valle è chiusa da tempo e questo meraviglioso tempio barocco, una delle più belle chiese barocche delle Marche, purtroppo ancora non è visitabile. Però qualcosa si sta muovendo. Cora Fattori, Assessore alla Cultura, che cosa sta accadendo qui all'interno di San Pietro in Valle? Sta accadendo quello che aspettavamo da anni. Sono contenta che la collaborazione con i lavori pubblici e con l'Assessore Brunori porti anche a questo sblocco. Come cultura teniamo molto tutti i monumenti, in particolare a San Pietro in Valle e quindi da mesi, da appena siamo arrivati, da cinque mesi stiamo lavorando tra uffici per riaprire le porte. Ovviamente per renderla visitabile ci vorrà anche ancora del tempo, però abbiamo affidato finalmente l'incarico all'Università Politecnica delle Marche per lo studio approfondito riguardante l'umidità, che è quella che poi provoca i dissesti che ne la rendono inagibile. Quindi siamo molto contenti di questo sblocco. Uno studio quindi propedeutico per capire l'origine dell'umidità che sta un po' così vietando la visita di questo bellissimo edificio. Dopo lo studio che cosa accadrà? Allora lo studio ci serve per capire quali strategie definitive si possono adottare per evitare di fare riaperture e chiusure. Riaperture e chiusure come è successo in passato, invece bisogna approfondire le analisi, capire bene in modo tale che una volta che si apre, si apre definitivamente perché si sono sanati finalmente i problemi e questo è necessario, altrimenti ci ritroveremo fra 15 anni a riparlare sempre del San Pietro che viene chiuso. Per festeggiare questo evento abbiamo deciso in concomitanza con un'iniziativa che farà la Fondazione Cassa di Risparmio sul San Pietro di aprire anche la Saletta Nolfi che nel frattempo abbiamo essa stessa riaperto e quella è agibile. Metteremo delle sedie e un video che racconta il San Pietro e sarà possibile affacciarsi nella chiesa per ammirarla. Non si potrà entrare ma è un primo passo per iniziare a restituire un tesoro alla città. Lo studio è stato commissionato all'Università Politecnica delle Marche, professor Paolo Clini. Che cosa intendete fare? Come intendete agire per rilevare veramente il problema? Ma qui agiremo a 360 gradi su tutto il complesso attraverso degli step differenti. Faremo la digitalizzazione accurata e dettagliatissima di tutta la chiesa, non solo degli interni meravigliosi che vedete ma anche di tutti i vari annessi, anche molto affascinanti. Qui abbiamo un mondo ipogeo meraviglioso, abbiamo tutta una serie di altri ambienti ovviamente dalla cappella, dalla parte che si trova dietro l'abis. Quindi faremo una digitalizzazione dettagliatissima sia a livello morfometrico che a livello di texture fotografica, quindi di pelle dell'edificio che ci permetterà anche di analizzare con grande dettaglio la condizione delle superfici. Un gruppo lavorerà a tutta l'analisi delle cause che hanno portato nel corso degli anni a un degrado importante legato alla risalita dell'acqua e l'acqua è il più grande nemico di questo edificio ed è il motivo per cui è attualmente chiuso. Utilizzeremo il Gioradar per andare a esplorare tutto quello che accade al di sotto delle pavimentazioni. Ci auguriamo anche di trovare, chissà, qualche meraviglia archeologica, magari troviamo un pezzo di basilica di Vitruvio, ma forse non credo, ma sicuramente in questo caso il Gioradar per andare a capire che cosa succede soprattutto a livello di cavità sotterranee e di condizioni che possano permettere o favorire la risalita dell'acqua. Contemporaneamente facciamo uno studio, carattere storico archivistico, perché questo è molto importante, per andare a ricostruire per quanto sarà possibile, per quanto i documenti ci permetteranno tutta la storia di questa chiesa. Noi avremo a disposizione un gemello digitale perfetto di questa chiesa che ci permetterà di fare molte applicazioni, per esempio di rimettere virtualmente tutti gli affreschi al loro posto in queste cappelle, di permettere a qualunque visitatore, in qualunque luogo del mondo, di indossare un occhiale e camminare nella chiesa così com'era nel momento in cui è stata costruita. Quanto tempo avete per consegnare lo studio? Noi abbiamo un accordo che prevede al massimo 180 giorni, speriamo di farlo in tempi più brevi, però questo è il tempo che è previsto dall'accordo.